Istituzionalizzare la festa delle Clementine nella città di Corigliano. Questo è il messaggio giunto dalla conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà il prossimo 7 gennaio sulla centralissima Via Roma. All'incontro con la stampa erano presenti Franco Mazzei, della CIA Calabria Nord, Parisio Camodeca, direttore provinciale di Confagricoltura, Bauro Dacri, consigliere regionale delegato all'agricoltura, Francesco Marino Scarcella, presidente Vivi Corigliano Lus, Franco D'Urso, direttore del GAL Alto Ionio e Alessandra Capalbo, assessore con la delega al turismo e il marketing del comune di Corigliano. Dopo oltre 20 anni torna in città la festa delle Clementine. Non poteva non essere a Corigliano questo appuntamento perché, come dico spesso, le Clementine sono l'oro della nostra città, la base dell'economia di ogni famiglia, in passato ma anche in questo presente un po' problematico. Il comune, diciamo dall'inizio del mio mandato e quindi anche in collaborazione con il sindaco e con gli altri assessori, io mi sono battuta affinché ci fosse un evento incentrato proprio su questa che è una tipicità appunto del nostro territorio. L'anno scorso era troppo tardi perché mi sono insediata a gennaio, quest'anno ho chiamato un po' a raccolta le associazioni che si occupano di queste cose per capire anche come si potesse creare un evento. Diciamo che è in via sperimentale. Vediamo come va, anche tempisticamente un po' slittato in avanti, però sempre in un clima festivo. Diciamo, prolunghiamo le festività del Natale attorno ad un prodotto che comunque rappresenta anche la famiglia corlianese. Invito tutti a partecipare a questo evento che ci darà anche l'opportunità di assaggiare quelli che sono i derivati di questo frutto che è già da solo e di per sé così al naturale e buonissimo. È possibile immaginare una vera e propria istituzionalizzazione di questo appuntamento qui a Corigliano? Ma io penso di sì che è possibile perché qua siamo proprio nel cuore della produzione delle clementine. Qui a Corigliano hanno fatto bene a organizzare questa festa per mettere al centro dell'attenzione come è importante questa produzione tipica nostra perché le clementine non è che si fanno dappertutto quindi hanno una qualità superiore, c'è il consorzio quindi noi come Regione Calabria ci stiamo stando vicino vogliamo incentivare questa cosa perché qui siamo proprio nel cuore dell'agroalimentare quindi nella piana di Sibere, quindi siamo vicini noi con i bandi siamo già in stato di avanzamento abbiamo quasi completato tutti i bandi siamo al 70% già dei bandi che sono già usciti ci sono proprio dei bandi che sono riferiti proprio al mettersi insieme quindi di aggregare il prodotto che è riferito ai consorsi.